Ciao a tutti da FN 2009, questo è IK Multimedia. Siamo felici di informare che tutti i T-REX3 saranno avviati come plug-ins individuali. Tutti i moduli T-REX3 possono essere usati in separati come plug-ins individuali o possono essere integrati nella suite T-REX3. Vediamo tre. Questo è il Vintage Compressor Model 670. Questo processore è basato sui gradi di tutti i limiti di compressore, la FN 670, che si analizzano per molti mesi per capire tutti i dettagli. Con la riproduzione di tutti i controlli, questo modello incredibilmente accurato potrà riprodurre l'attività e musicalità dell'unità. La prossima è il Vintage ProgrammiQ 1A. Questo equalizzatore è basato su quello che è universamente per essere uno dei migliori programmi che hai mai fatto, il PULTEC EQ P1A. Abbiamo modellato queste due uniti molto accuratamente per ottenere la performance sonica che non puoi distinguere davvero dall'originale. Questo è tutto possibile grazie alle nostre tecnologie SCC e DSM. Vediamo ora l'optocompressor. L'optocompressor, come sapete, ha questo carattere e responsività che ogni musicista e audio-engineer piace davvero. Una delle caratteristiche più importanti dell'optocompressor è la purità del sonno e l'absenza totale di distorsione quando la riduzione di gare. Vedrai il stesso carattere e l'audio qualità da questo modello recreativo analogico. Inoltre, tutti i moduli individuali T-REX-3 possono lavorare in stereo o mid-side modes, come lo fanno nella suite T-REX-3. Inoltre, la suite T-REX-3. Potete trovare più di T-REX-3 standard, deluxe e singoli moduli sul nostro sito. Guardate! 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 Guardate!